Mister, un'altra prestazione opaca stasera. Cosa è mancato per ottenere i tre punti? È stata una partita purtroppo di nuovo in salita, che si è compromessa dall'inizio sulla farsa riga di quella contro il Legnago. A differenza però credo che della partita contro il Legnago comunque la squadra ha cercato in tutti i modi poi di riprenderla come spirito, come mentalità. Ripeto, inevitabilmente andando sotto dopo dieci minuti comunque di fronte a un avversario che non ti lascia spazi, che ti viene a mordere le caviglie, diventa più complicato. Abbiamo provato a cambiare qualcosina ma abbiamo creato delle situazioni per poter pareggiare la partita, non tantissime. In questo momento paghiamo anche un pizzico di imprecisione, di tranquillità negli ultimi venti metri. La vigilia ha detto che serviva una squadra con un piglio diverso rispetto alla gara contro il Legnago. È deluso dalla prestazione di questa sera? No, in tal senso no. In tal senso assolutamente no. Ripeto, bisogna far fronte anche a quelle che sono le situazioni specifiche della caratteristica del giocatore. Noi inevitabilmente non siamo mai stati una squadra che in termini di peso, di centimetri, può competere ad alti livelli. Però come mentalità, come spirito, come compattezza i ragazzi hanno cercato di interpretarla nel modo giusto. Possiamo dire in un certo senso che continua la maledizione del Martelli? Non mi soffermo più di tanto su questi discorsi, sono situazioni che purtroppo capitano, sono casuali. Vedi anche ad alti livelli che succede. Per me continua ad essere spesso figlia di quella che è la condizione ormai dei campi degli stati vuoti. A Trieste senza Guccione, Milillo e Zanandrea. Una sfida che parte già in salita? Beh, sono tre elementi molto importanti per noi. Speriamo di recuperare Checchi. In linea generale sarà un'ulteriore settimana dove dovremo andare a cambiare qualcosina. Ripeto, per adesso c'è delusione, c'è sconforto, c'è poca lucidità nel valutare nell'immediato quelle che potrebbero essere le soluzioni per Trieste. Sappiamo che è una partita complicata, sappiamo che siamo ancora in gioco. Quindi adesso bisogna ricaricare le energie, non soffermarci più di tanto perché questa è andata purtroppo in malomodo. e poi da domani concentrarci su quella che può essere una partita che ci può dare ancora la possibilità di entrare nei pre-off.